salve a tutti da arpa via ma vi faccio vedere che cosa succede ogni qualvolta decido di lavare le ciotole si guarda allora scusate già le possono avere ciò che è un pochettino dobbiamo pulire bene qui abbiamo sistema tutto questi i nostri amici che c'è ora come si mette a guardare la storia nato tra fuori ma non ce la famiglia resiste e niente oggi aspettiamo troppo rilassata maniato bene si vede guardo già sperino già sperino ecco altri clienti che arrivano a controllare se si apuri bene bene non vogliamo mi pareva strano ma semmai che questo non mi aveva già venito no però devo andare a posto suo e si è messa quello a mezzo capito non riesce a andare a posto il suo preferito vedi che significa bisogna fare i lavaggi come i controllori cioè capito la casa dei gatti controllo tutti è arrivata un'altra eccolo la presa la posizione sua questa la posizione che piace a lui e quanto si schizza in questa posizione non potete manco immaginava incredibile gasperino fermo la stanza pezza lui c'era invece gli piace proprio l'acqua utilizzato invece gasperi se la guarda solo o guarda come pulisco io le ciotoline sto pure bene gasperi lo sto sereno arrivata purerina si oggi vi faccio vedere tutto quello che si fa con loro ecco vedi che è tagliato lo schizzo mi scappi che ti scappi ormai vi faccio vedere tutto quello che fanno loro quando io faccio le pulizie perché farlo vedere in diretta sarebbe troppo lungo invece così lo facciamo a pezzetti lo facciamo a piccoli video quindi oggi ci avremo questa novità dalla casa dei gatti intanto registro qualcosa e ve la pubblico proprio come questo video che stiamo facendo adesso abbiamo fatto vedere i nostri piccolini che in pratica si mettono tutti quanti qua quando c'è da lavare non si può girare niente annaggia perché è registrato comunque eccoli qua guarda guarda gasperino una capociata ha dato ma sei proprio una piccola testolina del bruchetto sei la testolina del bruchetto gasperino cerca casa anche janette cerca casa ma anche raffa cercano casa e questi sono i nostri gattini della casa dei gatti che si comportano così visto come fanno i gattini controllano anche che il papi lavi bene tutte le loro ciotoline